Noi abbiamo chiesto che la vicenda all'Italia non sia ulteriormente rinviata e quindi c'è bisogno di avere un progetto industriale. Credo che sia il momento della responsabilità da parte di tutti, compresa quella di Atlantia. Ricatti, forzature, credo che se si vuole cambiare questo paese il primo problema è che ognuno cominci ad assumersi la responsabilità del ruolo che deve svolgere e non di scaricare la responsabilità su altri. Quindi da questo punto di vista mi auguro che questo sia l'elemento di responsabilità che ognuno assume. Per quello che ci riguarda non c'è più tempo da aspettare, quindi è il momento delle scelte da compiere e per quello che guarda l'Italia una delle scelte è quella di avere anche un piano industriale. Allo stesso tempo credo che non si possa potrarre a lungo la discussione tra il governo e chi ha in concessione le autostrade. Anche lì bisogna che si assuma una decisione che vengano prese e che vengano fatte delle scelte coerenti.